buongiorno ragazzi buongiorno papino buongiorno a te prima di dire ai ragazzi la novità adesso ci siamo possiamo dire i goccioli proprio ragazzi scaricate l'applicazione numero 10 attualmente la miglior applicazione per il calcio mercato solo il nome applicazione numero 10 di più non si può il nome non si passa più ragazzi dovete link in descrizione sul link cliccate scaricate l'applicazione scaricate in tanti scaricate in tante numero 10 dove mi porti dove mi porti dove mi porti dove mi porti adesso dove mi stai per portare senza recondizionato noi andremo a andremo a ragazzi ebbene sì ci siamo ragazzi ci siamo mai siamo a borderline ci siamo ragazzi fortunatamente con la collaborazione con calcio napoli 24 noi andremo a di ma saremo a tutto il ritiro ma arrivata tutto il ritiro però stiamo il vicino al nostro la nostra prima esperienza vicino a napoli vicini vicini proprio di vicini vicini sai amore l'amore vicini vicini aspettiamo il presidente con ansia per parlare un po di tutto capitolo lasciatemi tranquillo io vi dirò tutto da bordo ragazzi si potremmo intervistare un po di giocatore qualche calciatore vedremo un po e qualche calciatore verrà due verranno sicuramente ragazzi state tranquilli che è proprio la cosa bella quando andiamo quando andiamo ragazzi a qui e cominci a partiremo partiremo ci sono qua bene 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 è venerdì sono solo 10 ore mag nichti sto facendo ma non è che e se 10 ore mag ki sto stare mandando piensa poco a me si a ah 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 tu pensa a te la faccio la faccio la versi d'amore ma non andiamo a male ah 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 ci andiamo a vedere ti fa fare raffa ti invito a giù a giù la raffa ti invito a giù serià eh e tu vai un coppia in montagna a giù ma quella paura che paura la paura ti viene giù ormai vabbè speriamo che Mario tu si ci conosce allora lo presenteremo senza complessi lo presenteremo se ancora è qua ciò arrivederci è stato un piacere è stato di giù ci lo dici è bello sì è bello così potendo là sì vabbè ma lui chi sta su eh chissà sicuro ma ma in te eh voglio bene è bello ma però allora fidarsi vediamo un po' che succede secondo te io sono contento di questa esperienza contentissimo io sono contentissimo contentissimo sì venerdì sono convinto ci siamo non si convinto c'è anche il valigio pronto tu si è teno pronto la valigio rimanga ma io mi sai la valigio rimanga la ghiacchera 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 tu che dici non ti piace questa era la novità la novità ve l'abbiamo detto ve l'abbiamo detto qualsiasi cosa non ci vuol dire ma allora chi si fanno parte la famiglia insieme a me di verne cose non ci ha detto niente noi diciamo sempre tutto siamo sinceri siamo li bravi ragazzi vogliamo bene seguiteci sempre come è solito e ci vedo e speriamo che qualcuno di voi lo incontreremo a dimanio va bene ci vediamo là tutti a dimanio ciao un volum 3 ciao 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 ciao